salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e oggi nuovo video test con questo Fimi x8 perché Fimi rilascia aggiornamenti a raffica mentre tipo Apsan rilascia circa un aggiornamento al mese Fimi ne rilascia anche uno alla settimana quindi fare un video dedicato per ogni aggiornamento che Fimi rilascia diventa praticamente impossibile che quando il video viene fatto poi viene montato e viene rilasciato su YouTube praticamente viene rilasciato già un altro firmware quindi diventa una cosa praticamente impossibile però dopo un po' di aggiornamenti che questo Fimi ha ricevuto da quando l'ho acquistato è arrivato il momento di ritestarlo in certe situazioni e valutare se gli aggiornamenti che ha ricevuto hanno influito o meno su queste sue funzionalità le funzionalità di cui vi voglio parlare oggi sono il Return to Home che da quando lo avevo acquistato non era stato un grand che aveva sbagliato circa di un due metri e mezzo il landing poi vorrei provare l'overing che anche quello non era un grand che quando l'avevo acquistato e un'altra cosa che voglio provare fare un range test sarà uno degli ultimi range test che si possono fare prima di essere tutti marchiati perché quando ci marchieranno tutti non potremo più fare nessuna range test anche se sono solo test di prova e di verifica di come un drone è in grado di comportarsi andando lontano ma non tanto perché quello che la gente secondo me non ha capito che il range test non serve solo per vedere un drone fino a dove va che si ok è interessante sapere un po come avere una ferrara e sapere provare a tirarla per vedere se fai 350 all'ora si è vero quindi avere un drone che lo possiamo fare andare lontano giusto per vedere quanto è in grado di andare poi non è che si va in giro a 350 all'ora sempre come una ferrara e con un drone non si va comunque sempre nella sua massima distanza quindi il range test non serve per quello quello che tanti non capiscono è che un range test serve per vedere se un drone in grado di andare che ne so a 800 metri vuol dire che quando starà nei suoi 200 300 metri avrà un segnale fortissimo quindi è un drone sicuro nel volare perché comunque avrà sempre una connessione stabile con il suo controller mentre se avremo un drone che già a 200 metri ha una disconnessione sarà un drone che anche stando vicino sarà molto molto instabile nella connessione quindi poco sicuro è questo che la gente non capisce range test secondo me serve molto a quello che ci dà la giusta misura di quanto quel drone ha una connessione forte con il suo controller quindi oggi faremo questo range test hovering e return to home e valuteremo se tutti questi aggiornamenti firmware che ha rilasciato FIMI l'ultimo ed è il 24 giugno se non sbaglio hanno portato qualche miglioramento in queste situazioni quindi adesso ragazzi senza perdere altro tempo iniziamo questo test con il FIMI X8 SE ok ragazzi tutto è pronto abbiamo 13 satelliti siamo pronti a decollare iniziamo con il range test poi faremo il return to home ovviamente dalle range test e vediamo se va a beccare il landing o meglio di quanto va a sbagliare il landing vi ricordo che aveva sbagliato di circa due metri e mezzo quando l'avevo acquistato circa un paio di mesi fa vediamo se con gli aggiornamenti è migliorato e poi vediamo l'overing se anche quello è migliorato con gli aggiornamenti quindi adesso andiamo a decollare e vediamo come si comporta questo FIMI X8 SE allora andiamo ad un'altezza di 70 metri ovviamente il FIMI è sempre velocissimo alzarsi ok siamo a 70 metri adesso siamo pronti direzione in nulla come ho fatto con gli altri droni e ragazzi vi ricordo che i range test servono solo appunto come test e basta non si usa un drone a queste distanze si fa solo come test infatti si fa in posti tipo questo dove praticamente sono solo campi o se no fatelo sul mare dove al massimo vi cade nel mare ed è un problema vostro ma non fate danni a nessuno anche perché vi ripeto il range test è solo per capire il segnale quanto è forte e quanto veramente questo drone anche a 200 metri va a un segnale sicuro e stabile quindi adesso andiamo allora siamo già a 100 metri direi che il ritorno video è ottimo siamo a 200 metri il ritorno video è sempre ottimo abbiamo 15 satelliti allora è velocissimo questo drone quindi brucia i metri veramente in un attimo se lo si lascia impostato con le impostazioni di default lo ritoccate appena appena ma rimane sempre molto molto veloce allora siamo già a 500 metri stiamo già per toccare 600 metri e direi che il ritorno video è ancora molto buono ragazzi non ci sono ancora dei lag che poi sono quelli che alla fine ci vanno a indicare che il segnale si sta indebolendo allora stiamo andando ancora verso il nulla siamo quasi a 800 metri e il ritorno video è ancora ottimo ragazzi vi ricordo che è in modalità CE questo drone attualmente non ha più la possibilità dell'FCC quindi stiamo parlando di una modalità CE siamo quasi a 900 metri direi che al chilometro ragazzi torniamo indietro perché mi sembra più che sufficiente per il nostro test nel senso che ci dà l'idea che questo drone ha veramente un segnale video spettacolare ok ragazzi abbiamo raggiunto la distanza massima possiamo ritornare quindi facciamo un return to home e vediamo il drone come si comporta nel return to home quindi ragazzi questo drone anche in modalità CE come è attualmente che non ha più la possibilità dell'FCC è un drone ragazzi che merita tantissimo secondo me dal punto di vista della qualità del segnale quindi è un drone che a 200-300 metri ragazzi vi fa volare in totale sicurezza perché è un drone che va tranquillamente a un chilometro quando voi volate comunque nelle distanze di legge vi porta veramente ad avere un drone che vola sicurissimo e questo è importante perché comunque a questo servono i range test ragazzi ad avere un drone che vi porta a volare sicuri che è la cosa più importante perché solo facendo questi range test si ha comunque questa misurazione di performance a livello di ritorno video e di qualità di connessione con il radiocomando perché scrivere sulla carta le cose è sempre facile tutti i produttori, soprattutto i cinesi scrivono cose assurdissime anche su droni da 30 euro scrivono magari distanza a 200 metri però ragazzi è tutto tranne che quello quindi solo facendo i range test di questo tipo ovviamente servono solo a questo sono test poi non si vola così non si fa riprese video a queste distanze e tutto questo sta tornando siamo a 340 metri soprattutto quando poi ci marchieranno tutti praticamente non si potranno più fare neanche i range test quindi uno quando lo compra lo scopre dopo se quel drone ha un segnale video performante o meno perché nessuno farà più range test è per dimostrare che un drone vale la pena acquistarlo perché è sicuro nel volo quindi quando ci marchieranno ragazzi addio anche ai range test fa un caldo pazzesco non so se si vede che sto sudando come una bestia ci sono circa 35 gradi quindi c'è un po' d'aria anche l'unica cosa piacevole è quella che è aria caldissima ma almeno un po' d'aria vediamo come si comporta dopo nell'overing con questa arietta sta tornando e sopra di me vediamo se decide di atterrare giusto ok ragazzi sta arrivando vediamo se rispetto all'altra volta è migliorato non so se lo state vedendo perché c'è un sacco di luce quindi vediamo di quanto va a sbagliare il landing o magari non lo sbaglia neanche quindi tanto meglio vediamo vediamo di quanto ok lo vado a interrompere ok l'ho interrotto ragazzi è migliorato tantissimo avrà sbagliato di circa un metro e mezzo non di più direi che è migliorato veramente tanto comunque usciva la scritta che non trovava il landing o meglio la fotocamera sotto di lui non leggeva il landing non so se perché è arancione lui legge solo quello blu se perché è quello nero cioè o se perché invece c'è qualche altro problema che manca ancora un po' di precisione però ragazzi è migliorato tantissimo guardate adesso ve lo faccio rivedere magari da questa inquadratura si vede meglio cioè vedete dove è il landing vedete dove lui avrebbe sbagliato di circa un metro e mezzo non di più quindi comunque è migliorato tantissimo rispetto all'altra volta dove aveva sbagliato di circa due metri e mezzo anche tre quindi direi che è migliorato davvero tanto rispetto a prima però il landing peccato non l'ha beccato però ripeto è un drone che costa 350 euro quindi quando lo si trova in sconto sono intorno ai 400-450 comunque un drone che costa meno della metà di un prodotto DJI quindi o circa la metà di un Mavic Air quindi anche se non becca il landing e quando atterra ma lo sbaglia di un metro e mezzo direi che comunque va benissimo ragazzi che comunque è tornato da un chilometro e ha sbagliato di un metro e mezzo va più che bene i droni che riescono a beccare il landing ad uso diciamo così hobbistico sono i DJI gli Autelivo e il Paro Tanafi ragazzi sono i droni che beccano il landing sempre però anche Absanzino adesso in quello diciamo che non è niente male si difende bene rispetto ai suoi diciamo competitor molto più costosi questo FIM X8 secondo me è ancora da migliorare perché comunque ha tanto a livello di potenziale ma non è ancora proprio tutto espresso per quanto realmente possa dare quindi ragazzi adesso proviamo anche l'overing e così tiriamo le conclusioni su questo fantastico secondo me FIM X8 SE cioè ragazzi guardate adesso com'è stabile cioè veramente adesso è fermo direi che veramente adesso rispetto a prima sale e scende un pochino ma roba proprio di centimetri niente di imbarazzante rispetto a prima che veramente era una cosa indecente ragazzi c'è un po' di venticello ma l'overing è assolutamente migliorato e non è ancora un diciamo un overing alla Parotanati alla DJI all'AuteLivo però è un overing che adesso diciamo che è un overing che ha senso prima veramente non aveva proprio senso e ragazzi perché quando l'ho provato io due mesi fa l'overing veramente me l'aveva lasciato me l'aveva fatto rimbalzare indietro ragazzi che cavoli con tutto quello che ha non può avere un overing così l'aveva meglio un Absanzino che non ha nessun sensore sotto e questo era tutto dire adesso con la raffica di aggiornamenti anche quello è migliorato quindi ragazzi adesso tiriamo le conclusioni su questi aggiornamenti che hanno portato questo FIMI X8 ad avere sicuramente dei miglioramenti ok ragazzi il test è finito le conclusioni di questo FIMI X8 sono che comunque sta nettamente migliorando ragazzi FIMI ci sta mettendo un po' perché comunque parte secondo me da una base tecnica niente male ma quegli aggiornamenti tra magari avere ogni tanto corretto cose avendole peggiorate e una cosa e un'altra si sta un po' dilungando tanto nel farlo andare bene in tutto però adesso inizia veramente a comportarsi bene ragazzi lo potete acquistare anche a 350 euro alcune volte con i vari coupon ed è un drone ragazzi che merita davvero tanto un drone che dal punto di vista tecnico è veramente completo ha tutto e adesso inizia veramente anche a essere sfruttato appunto in tutto il suo comparto tecnico per quello che realmente può dare quindi ragazzi se questo video in cui vi ho fatto vedere con questi nuovi aggiornamenti come si comporta questo FIMI X8 in questo range test che ovviamente è per farvi vedere quanto questo drone ha comunque un segnale sicuro con il nuovo regolamento europeo nel senso quando volerete con le regole europee questo drone vi dà veramente tanta sicurezza nel volo nelle metriche potrete volare in più avete visto che adesso ha un overing più che discreto anzi direi buono non è ancora un parotanafi non è ancora un autoelivo non è ancora un DJI ma adesso sicuramente è un prodotto che ha un overing più che buono e in più avete visto il return to home che non è ancora preciso nel senso che non va a beccare il landing però ci va molto vicino rispetto a prima che me lo sbagliava di un due metri e mezzo anche tre adesso si è avvicinato veramente tanto e tutti gli aggiornamenti comunque hanno portato ad avere comunque un drone che sta veramente migliorando quindi Fimi continua a lavorare così che forse riuscirai ad avere un drone alla pari dei competitor più costosi quindi ragazzi se questo video in cui vi ho fatto vedere questo Fimi X8 con i nuovi aggiornamenti cosa è in grado di fare lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale Telegram offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video una recensione un tutorial o quello che arriverà ciao